Ancora una notte di furti nei bar per rubare slot machine, gratte e vince sigarette. Questa volta i ladri sono entrati in azione nel bar caffetteria Grottaccia, annesso al distributore di carburante Tamoil, in strada Santa Maria dell'Arzilla, nel comune di Pesaro. Erano circa le tre di notte, quando i malviventi hanno fatto eruzioni sul retro, forzando una porta della toilette. In questa stanza hanno sfondato una parete per poter accedere in un altro bagno collegato con l'interno del locale. Si tratta del secondo colpo in meno di due mesi, l'ultimo messo a segno il 28 ottobre scorso con un bottino di 15.000 euro. Anche l'altra volta sono entrati dallo stesso punto? Il punto è sempre lo stesso, sicuramente ormai sanno come entrare, sarà sempre le stesse persone. Però l'altra volta c'era il bottino, era più sostanzioso, perché avevo fatto la leva il giorno prima di tutto. Due volte in meno di due mesi, cioè veramente è una cosa allucinante, ti toglie anche la voglia di lavorare, perché due volte in due mesi non mi era mai successo, in meno di due mesi. Adesso non so più che provvedimento, cosa fare, perché effettivamente è antifurto, a vigilanza, però non si riesce mai a beccarli, a prenderli sul fatto. Il titolare questa mattina doveva ancora quantificare il danno, ma secondo una prima ricostruzione potrebbe aggirarsi attorno ai 3-4.000 euro. Ad avvisarlo sono stati i carabinieri di Pesaro, grazie alla connessione del sistema d'allarma e del bar con la centrale operativa dell'arma. Le telecamere le avete? Le telecamere le abbiamo, ma non si vede niente, perché avevano probabilmente dei cappucci, non si riesce a vedere niente. Sono posizionate anche sull'esterno, se non mi sbaglio? Avete notato un furgoncino, un mezzo? No, perché sono entrati praticamente dal punto dietro dove non c'è niente. Sicuramente sono venuti dal campo dietro, confinante, le telecamere sono solo qui davanti nel piazzale, quindi non si è riuscito a vedere niente. Prenderete ulteriori provvedimenti, magari di posizionarli o installarle anche nella parte... Certo, certo, se no conviene vendere, quando devi subire un furto al mese è una media allucinante, insomma, una cosa mai successa prima.